Consiglierai il mio corso di laurea in arte valorizzazione e mercato perché oltre alla parte teorica che comunque è importante ti offre la possibilità di entrare in contatto con delle personalità che lavorano già all'interno del settore di interesse quindi il mercato dell'arte, tanti direttori di gallerie, di musei, anche artisti e quindi ti offre delle possibilità anche nel mondo del lavoro, ti apre delle prospettive future. Dunque il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di aprire una mia galleria, quindi dream big più o meno e soprattutto fare scouting di artisti emergenti, dare loro una possibilità per emergere nel mondo dell'arte credo sia molto importante interagire con loro, capire il concept dietro le loro opere e quindi questo sarebbe il mio sogno.